Si torna a parlare della via torrente Vallonazzo. La strada di collegamento fra la frazione maschalese di Carrabba e quella di Sant'Anna, agile bretella per raggiungere in pochi minuti anche la vicina a riposto. Di questa lunga e grande arteria si ricordano in particolare i numerosi incidenti, purtroppo il più delle volte mortali, che negli anni hanno coinvolto automobilisti e pedoni. Ultimo in ordine di tempo, quello occorso al maschalese Alfio Amante, che lo scorso mese di febbraio ha perso la vita travolto da un'auto. A distanza di poco più di un mese non si placano le polemiche sull'agibilità della via e in molti si chiedono quando l'amministrazione comunale provvederà ad attuare degli interventi risolutivi e quindi a metterla in sicurezza. Per completare con tutti i servizi di cui necessita via torrente Vallonazzo, la diecente via parallela e via Pietralonga, tutte comprese in un unico corpo di progetto, spiega il sindaco di Maschere Luigi Messina, occorrono oltre 2 milioni di euro che non fanno parte delle linee di finanziamento regionale ed europeo e che quindi dovrebbero essere finanziate dal comune maschalese. Somme che attualmente l'ente non ha a disposizione. La soluzione immediata, d'intesa col comando dei vigili urbani, spiega ancora il primo cittadino maschalese, sarebbe intanto realizzare nel corso di quest'anno e del prossimo delle rotatorie nell'incrocio delle tre arterie, dotandoli di illuminazione che consentirebbe il rallentamento dei veicoli, assieme a conferire una maggiore sicurezza e fruibilità dei luoghi. Il tutto unito ad interventi di scervatura lungo le carreggiate già dotate di marciapiedi.